Una casa editrice che è nata quasi due anni fa e che oggi si sta espandendo in questa realtà difficile ma comunque meravigliosa. Stiamo pubblicando parecchi autori e soprattutto senza contributo, diamo la possibilità ad autori emergenti ed esordienti di riuscire a farsi strada in questo mondo dell'editoria e abbiamo vari tipi e varie alternative proponiamo di pubblicazione che potrete trovarle sul nostro sito www.letteraturaalternativa.it Al momento abbiamo un premio importante, c'è un concorso, un autore in concorso, un premio importante che è il Campiello che è Pablo T con ritratto borghese e stiamo tentando di espanderci e di lavorare sempre al meglio per poter offrire un prodotto di qualità e per poter avere con i nostri autori una relazione umana, una sinergia collaborativa importante e fondamentale. I progetti futuri sono quelli di continuare a espanderci in questo modo, lavorando in questa maniera molto fitta dove mettiamo comunque impegno e quindi ad avere sempre più pubblicazioni, ad avere sempre libri di qualità e a puntare sicuramente in alto perché la nostra idea è quella di continuare a crescere, a crescere smisuratamente. Grazie a tutti!